Questo è un pezzo di heritaggio che non deve essere perdita. Josef Pino, per l'esperienza, è un pezzi che crea pezzi uniche pezzi di wood. Crea lima, walnuts, arola, boxwood e molti altri tipi di wood. L'esercito di 15 aveva un amico a prima vista, che dirige il suo futuro. È successo che si passava in un lavoro e, guardando i ragazzi lavorando con le chiselle e le gorgie, la sua curiosità ha portato a prendere un profondo interesse nell'utilizzo di queste strutture. L'esercito ha notizato che le mani di queste strutture, che producono come magica, funzioni di arte che profondano la sua sensibilità e l'immaginazione. Poi ha pensato che sarebbe il suo lavoro, il suo lavoro per fare durante la sua vita. Con la terminazione, ha iniziato un corso di insegnamento e ha iniziato a procurare contatti per imparare un profondo, fatto da rari e autentici guardiani dell'antica. La sua fortuna era trovare un buon maestro, che potrebbe trasmettere l'arte in un modo semplice ma essenziale. e era il maestro Bernardini Luigi. Con Luigi Bernardini ho lavorato assieme circa una decina tanti. Questo maestro era Bernardini Luigi. Ha lavorato con lui nella Tuscania per 10 anni. L'arte proprio del tanto, pulito e pulito e pulito, il stile di pulito dal XVI al XVIII secolo. Mi hanno anche fatto capire che prima di creare un pezzo di lavoro da città, un pezzo di lavoro da città. Un pezzo di lavoro deve produrre un pezzo sul pezzo. Il pezzo deve diventare il stile distinto di ogni pezzo. In Venizia ha incontrato un altro maestro, che notizia la faccia dei ragazzi. L'arrivo di trasmettere il suo compagno e l'esperienza. Pino mi ricorda molto bene quando andò in suo lavoro in Venizia, per la prima volta. E il maestro gli ha detto, «Ti senti questo lavoro nella tua vita». Questo maestro, come il precedente, abbrò la porta del suo lavoro. Era un lacqueror e un gilder in restaurazione. Questo era straordinario. È possibile ristrarre le mie parti dei lavori del passato, ristrarre e ristrarre le lavori di arte solo se vedi i materiali e i metodi antichi di lavoro. Da questi maestri, l'unico craftsman, apprendeva una cosa che non potrebbe mai immaginare. Un esempio dell'authenticità di un pezzo di arte consiste in capire e distinguere la gilderina falsa da la gilderina. Questa città, che sembra molto polissima, è il gilderina falsa, mentre questa, che è molto piccola e opica, è il gilderina reale. per capire e distinguere la gilderina falsa dalla gilderina falsa. la gilderina falsa, la gilderina falsa, la gilderina falsa, non è la gilderina falsa. La gilderina falsa, che non è più lunga, spera che il suo entusiasmo e il suo desiderio potrebbero motivare qualcuno di altri che, per vedere questo video, diventano più scegliati e dinamici che Pino stesso. non perdere la gilderina falsa, non perdere la gilderina falsa. E' il mio obiettivo, non perdere la ricchezza. Grazie a tutti!